Prendo la legna, pianto la legna, prendo il grano e pianto il grano Sono Steph, il re dell'isola e sono sempre tanto allegro Ciao Ferinichi! Come stai? E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph e qui si chiama Roblox E siamo nella Skyblock 2, ovvero la versione migliorata e aggiornata della Skyblock Che abbiamo portato un po' di tempo fa, tantissimo tempo fa Che secondo me è 3-4 mesi fa, ma non voglio esagerare Comunque era una mappa davvero bella, ma adesso sembra super fantastica Finalmente possiamo stare in due nella stessa isola Ma direi che quello è proprio il minimo di questa mappa Perché hanno fatto un sacco di cose Allora, abbiamo messo a piantare un po' di grano e un po' di alberelli Dobbiamo aspettare che crescano, tagliarli e ripiantarli Buongiorno! Hello! Hello anche a te! Ciao Lucas! Lucas 77777! E quanti ne volevi mettere, Lucas? Oh grazie! Grazie! Grazie Lucas! Adesso puoi anche tornartene a casa Grazie! Sinceremente vogliamo stare per i fatti nostri Tutto a posto? No! Non sai guidarlo? No! Siamo già a 5 di legna Ok! Ok! Lo ripianto subito all'alberello che ho tagliato così Nel mentre ricresce Ci prendiamo subito il grano Il grano lo possiamo mettere all'esterno L'albero invece rischia di caderci Sì! Esatto! Esatto! Non vorrei perdere legna contando che all'inizio il farm è molto lento Ci manca solo che la perdiamo Comunque dicevo Prima che arrivasse il tizio Col tappeto colorato eccetera eccetera Che guardandomi intorno e sbirciando leggermente Secondo me Io non vorrei dire Ma si possono fare cose davvero fighe Quindi non vedo l'ora di iniziare a costruire Non sbircio troppo per non spoilerare Ma Sono davvero gazzata di fare sta mappa Io ho visto uno scivolo Eh! Capito E qui mi fermo Proprio non aggiungo altro uno scivolo per tornare nell'isola E mi voglio fermare qua Ma tu scherzi avere una casa Tu immaginati da qui Dal palazzo scendi giù con lo scivolo E ti spacchi la faccia per terra Ma no! Perché sono di quegli scivoli morbidi come quelli dell'aereo Capito? Ma Ma E vai in giro e non fai le scale E sei felice perché non fai le scale Non è sono così sicuro Comunque una roba bellina Che adesso c'è una specie di cittadina al centro Che collega a tutte le isole C'è un fabbro C'è un taglialegna E c'è pure un tizio che fa pane e torte E questo è il negozio dove va sempre Ferenichi Esatto Il mio negozio abitudinario Io tutte le mattine vengo qua Capito? Mi sembra giusto Infatti guarda la faccina da gatto Lui è una specie di cupola in vetro Con dentro dei guerrieri e dei ragni da combattere E credo che ammazzando Queste cose ti dà tipo dei materiali o qualcosa del genere Interessante Non ho capito bene a cosa serve ma è interessante Già 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 no Poi guarda qua Avrai i polletti Ma sono quelli e quelli di minecraft Ma sei matto? Avrai i polletti Hanno pure la casetta Bellissima Fanno le uova che credo che vai e raccogli Oh che bello Allora muoviamoci qua per favore Tagliamo Vorrei troppo avere una fattoria io nella vita Sono felicissima Però ho capito Senza ammazzare gli animali Allora con guasto mi muovo Ok E dovrei poter estendere un pochettino alla nostra isola Estendiamoci alla Sinistra 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 Sì Sette di legna Uno di grano Ce li abbiamo Boom E' gigante E certo Pensavo fosse un'espansione minuscola e invece è gigante No quale cose si fanno su serio Allora però non mi devo perdere in ciancerie E devo buttare giù tutti gli alberi e ripiantare tutto il grano Quindi il grano abbiamo detto che lo mettiamo agli esterni Quindi ta 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 Qua posso Perfetto così Ora devo togliere tutte le foglie perché mi da tutti i sapling per gli alberelli Dopodiché devo buttare giù quattro tronchi Ti ricordi che cosa facevo sempre nella skygrande su minecraft? No Cantavo Tagliamo la legna Tagliamo la legna Perché devi fare questa cosa? Ci serve tanta legna Non piacciono a nessuno le tre canzoni Per la nostra isola Te lo dico Ai consolini piacciono sempre Ma non è vero non piacciono E quindi io canto Per i consolini E anche per fare Tante cose Ah no ma se dice il massimo sto tagliando legna per nulla Allora vediamo cosa possiamo costruire Vedi che sei inutile accidenti a te Island upgrade Boom Guarda che cosa ci mette Una casettina Ok Island upgrade 30 cash Che direi che non abbiamo Qua costa 25 cash che non abbiamo E l'estensione verso questa Invece ce la possiamo permettere Dopodiché per tutto ci chiede dei soldi Quindi noi credo che dobbiamo andare a vendere Ma l'hai visto qua? Sì certo C'è l'acqua Come se io Come se io Però stavo parlando e mi ha interrotto Quindi torna qua e chiedi perdono No Secondo me noi dobbiamo andare con la legna Teletrasportarci alla segheria Ok E lui secondo me ci dà dei soldi Esatto Quindi vendiamo tutta la legna per 28 monetine Ok ok sto capendo Sì 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 Capito Quindi praticamente questa mini segheria che abbiamo qui in base Ci serve poi per teletrasportarci andare a vendere la nostra legna Esatto Poi ho visto che qua abbiamo un livello Quindi probabilmente la potremmo anche migliorare Per aumentare la nostra abilità di tagliare la legna Esattamente Allora ti faccio subito vedere una cosa che ti farà impazzire Ovvero Packete Packete No mi mancano due sciolti Oh no Che tristezza Ero prontissima Allora facciamo che portiamo l'amber a due Così teoricamente andiamo più veloci Giusto Ok perfetto Sì mi sembra di sì Sì vedi 18-22 di vita a colpo Quindi sono decisamente più veloce Ok Facciamo che prendo tutto il grano Rissemino il grano perché il grano è molto veloce Così vediamo anche quello quanto vale Perché possiamo vendere anche quello Dopodiché ributto giù tutti gli alberi E vediamo tutto quello che riusciamo a costruire Posso metterli anche qua Secondo me li puoi mettere lì in terra eh Sì E beh altrimenti che ci serve tutta sta terra Allora è facilissimo Alberi ovunque Non ne ho più Tagliamo la legna Tagliamo la legna Adesso la tagliamo Molto più veloce Perché non mi avverti prima Grazie la lambe Cioè se mi dici che vuoi fare un episodio cantando Io non lo registro con te Capito? Cioè me ne rimango a dormire Ma perché? Mi faccio gli affari miei E tu rimani qui a cantare tutto il giorno Sì ma perché non ti piacciono le mie canzoni? Cosa ti hanno fatto? Perché sei stonato Non è vero Sì Allora il prossimo anno partecipo a Sanremo Con la canzone dei Consolini E ti dimostro che tutte le prezzeranno Finisco in tendenza per dieci giorni Stile occidentali scarma E vinco Sanremo No non puoi Così non mi potrei più dire che sono stonato Non puoi vincere Sanremo Certo No Certo certo Non passi neanche la prima selezione Capito? Niente proprio niente Ti metto a votare Ah ma dove io votare? I Consolini votano da casa E vedi come vinciamo Sanremo Anche se non so cantare Ma se mi metti nella giuria Io non ti voto Sì che Dai su Voto le peggio canzoni Pur di non farti vincere Te lo dico E anche le più brutte Non è vero Pur di non farti vincere Non lo faresti mai Quindi andiamo un attimino a vedere Se possiamo vendere Anche appunto il grano Come dicevamo No non ti devi sedere Devi andare qua E vedere se il signorino Vuole il nostro grano Sì vedi? Ho venduto tutto il nostro grano Per 16 dollari E non serve ad altro? Solo a venderlo? No secondo me serve anche Per scambiare il grano Con le uova Credo No però anche nelle uova C'è scritto vendi Quindi secondo me Le vendi dai polli Capito anche quelle E penso che sia Semplicemente per vendere Puoi farti i soldi Per migliorare la base Ok Penso che sia così Ok Allora Vendo dai tutta la legna Così siamo ricchi Abbiamo 67 dollari Ed è ora di potenziarci tutto È venuto un disgraziato a casa nostra? No Non era casa mia quella Ok Ho sbagliato Arrivo Non riconosci neanche più casa tua Non è vero Vediamo cosa possiamo fare Spim Spim Oh mio dio Aspetta Vai 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 Togliti piccione Mi stai disturbando Vai a vedere Oh che bello No Voglio vivere qui Voglio vivere qui Ah Il grano Serve a dare da mangiare alle galline Ma siete troppo bellini Sì Alle galline Sono galline Sì sono galline Non sono polletti Allora E dove lo devo mettere il grano Per dargli da mangiare però? Nella casetta non ci abbiamo Secondo me in terra In terra no Qui sotto Qui sotto La mangiatoia deve essere Ah guarda Oh mio dio No vabbè Ciao No ma com'è fatto bene È troppo carino Guarda sta mangiando Stanno mangiando Ciao galline Mangiatrici Che carini Fantastico No sono bellissime Allora Stavo vedendo Che anche qua Abbiamo Il massimo di galline Di alberi Di tutte le cose possibili In base A quanto Hai rotto le scatole Lucas Go away Chicken Perché non lo posso uccidere? Perché non posso uscidere Sto piccione? Allora Dicevo Che quindi in base a quanto potenziamo La farm Noi possiamo E fare tutto il resto C'è questo qua Allora È pazzo Stai rovinando il video Non ti può chiedere Ai consolini Ai robux Ai robux Ma che te frega In ogni caso Non te li possiamo neanche dare Quindi va E non te li do Mille robux Vediamo adesso cosa dici Lucas 77777 777 È 0 Perché non mi permette di ucciderlo? Guarda non lo so Però mi sta facendo arrabbiare tantissimo Io sono arrabbiatissima Sono proprio infuriato Ehm No Ma proprio neanche un robux Ti donerei piccione maledetto Che poi non è neanche vero Che li abbiamo Neanche se fossi L'ultimo piccione del mondo Ti donerei un robux Vai via adesso E non rompere più le scatole Qui invece Possiamo fare un island upgrade 30 E guarda Uh Dov'è? Qui Dov'è? Eccola Abbiamo Credo la pietra da prendere Sì che poi vende anche questa Perché vedi che è il teleport È il nostro generator No vabbè Vedi che c'è la pietra Che si forma perfettamente Con la lava Tra la lava e l'acqua Che bello Figata Hanno fatto anche un po' di uova Oh che belline Allora ma ce l'hanno ancora il cibo Allora che cavolo Ripete le scatole Prendiamo le uovette Una Due E tre Grazie mille Ma sono solo due? Le galine? Pensi che si riproducano? No c'è scritto qua Solo che Lucas Ci ha interrotto il video Ah ecco Ok Due galline Avendola a livello 1 Ok Più lo portiamo su Più galline abbiamo Ok perfetto Perfetto Chiarissimo Solo che Lucas È un rompiscato Le rovina sempre tutto Che poi dopo che gli hai detto no Io non so se ci hai fatto caso Però io ci ho fatto caso È scappato Sì è scappato dalla mappa Ha chiuso il gioco Sì ha chiuso il gioco Ah almeno ha capito Devo dire Che almeno Il fatto è che Siamo troppo minacciosi Noi gli inglesi Li facciamo sempre scappare Cioè ormai è una costante Capito No sì 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 Del nostro canale Non c'è proprio Non scorre buon sangue Insomma Così Perché rubano i posti Ai consolini nei server Esatto Allora sto finendo di tagliare Un po' di legna E volevo vedere Quanto vale la pietra E quanto valgono le uova Allora Vendiamo la nostra legna Per 20 di legna Cioè vabbè Legna per 20 monetine Si era capito Tranquillo Poi andiamo dal Bacchery Buongiorno Ti vendo 4 uova Sono 40 dollari Che è già tantino Poi vendo Un po' di grano Ma me ne tengo Facciamo che ci teniamo 4 per le nostre gallinette Ok E siamo già A 95 soldi E adesso vediamo Quanto ci paga Per le pietre Ne abbiamo solo 4 Secondo me ci paga Tipo 60 Eh sì Secondo me paga bene Per le pietre E Quanto? 5 l'1 Quindi 20 Eh vabbè 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 Dai ci stia contenta Che ti devo dire Ah certo Ci dobbiamo accontentare Però 115 Basta per potenziare Appunto la farm A livello 2 E quindi adesso vediamo Quante gallina Avete più polletti Che bello Più polletti per noi Quindi più uova E quindi più soldi Allora Island upgrade 80 monete E compra È cambiato esteticamente? No È svenuta una gallina però Perché? L'ho vista proprio cadere di faccia Poi si è rialzata Ok eccola Perché adesso Ah c'è un'altra adesso Dai dimmi C'è scritto 24% Completato Ah Quindi siamo Cioè mi sembrava di aver fatto già un sacco di cose Invece ci manca tantissimo No Non siamo neanche a metà Basta Neanche a metà Basta guardare questo qua Guarda che roba c'ha È normale Che non siamo minimamente Quindi abbiamo ancora tantissimo da fare Una figata questa Una figata Sì 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 Molto bellina Infatti Secondo me bene o male ci fermiamo Facciamo le ultime collettine Poi ci fermiamo Però mettiamo un bel sondaggio Per chiedervi se lo volete in live Se lo volete in video Scegliete voi Però se volete E vi piace Noi la continuiamo volentieri Diciamo che quando ci fanno le mappe belle È davvero ben fatta Come promesso noi ve le portiamo Allora un attimino qua Vediamo come gestirci le cose Le galline Dicono di aver fame Ma stanno già mangiando Guarda quante uova iniziano a fare Eh sì Secondo me Così ci sistemiamo bene Per i soldini Abbiamo 12 uova Vado a venderle Vediamo quanto ci paga Per 12 Buongiorno Quanto mi dà per le uova fresche Quanto era 120 Uh Ora sì Che si inizia a ragionare Bravi polletti Vedi che fare la legna Allora è mezzo inutile Bravi polletti Vado ad accarezzare Vai vai Bravi 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 Noi non fai di paura Io non faccio paura a nessun animale Ok Non ci provare Perché gli animali mi amano È solo a te che non vogliono Quindi non rompere E se ti dicessi che adesso Le gallinette sono quattro Andiamo a vederle Le vedi? Io voglio vivere qui dentro Guarda quella casetta Me la prendo io E rimango lì dentro Ma non ci stai in quella casetta cara Sì che ci stai No non ci stai Aspetta Devi essere razionale Aspetta Guarda ci sto Ma sei dietro Non sei dentro Non sto dentro Dai Arrenditi Non puoi vivere con le galline E invece sì Mettiti l'anima in pazza Ok Ho preso un sacco di grano Adesso abbiamo tantissimo cibo Per le nostre galline Io direi che ormai Proprio Non facciamo legna Non facciamo pietre Devi riempirli il cibo però Lo stanno finendo E infatti adesso arrivo Sto riseminando Così poi avranno di nuovo il cibo Hanno fame C'è galline Non mi interessa Aspettano come tutti Non è che quando uno ha fame È subito pronta la cena E invece sì No Non funziona così E non ti alleare alle galline Io sono la regina delle galline Ciao galline Comunque sei la regina delle galline Perché sei una gallina Pazienza Non mi interessa Se cerchi di offendermi Perché sei geloso Del fatto che io vado d'accordo Con gli animali Ma di che cosa sono geloso Non mi interessa Cioè la gelosia ti sta facendo dire Sì rimani nel recinto Guarda Sì rimango con loro Sono molto più felice con loro Che con te Te lo dico Te lo dico Meno male Io sarò felice Solo quando vincerò Sanremo Invece Non lo vincerai Ok Certo che lo vinco Verrò col mio esercito di galline E ti ucciderò Mentre fai l'esibizione Proprio Dato che mi metti nella giuria Scateno tutte le galline Per farti eliminare Ho preso altre 16 uova Le vendo E facciamo l'ultima Diciamo costruzione Prima di fermarci Ok 160 dollari Ne abbiamo un totale Di 205 Richissimi Vediamo cosa ci esce Allora ti faccio scegliere a te Ok Possiamo potenziare Il tagliare la legna Potenziare la fattoria Potenziare il posto della terra Della pietra Scusami Oppure una nuova zona Nuova zona dai Va bene Nuova zona Sono curiosa Voglio vedere qua tutto c'è Nuova zona Costa materiali No costa materiali Ce l'ho fregato Eh vabbè Te ne dovevi conservare un pochettino È ovvio Ma non è nulla Stava costando tutto soldi Quindi pensavo Dai non serve più E invece serviva No certo che serve Lo immaginavo E allora Dai miglioremo questa centrale Quella principale Questa qui Ok 50 monete Sì non è nulla Quindi adesso È di livello 3 23-27 a colpo E guarda lascia Che bella Che diventata Sembra in diamond Quindi dai Adesso servirà A prendere tantissima pietra Tantissima legna Quindi è una roba Abbastanza noiosa E direi di fermarci E di farlo magari Tra un video e l'altro Direi di fermarci così Per questo video Quindi fateci sapere Se volete vederlo Continuare In video o in live Scegliete voi Un pochettino Dove preferite Ed avere una figata Di mappa Siamo ancora Soltanto diciamo A un quarto Di quello che si può fare Quindi ci aspetta Un sacco di roba bellissima Bene che si legge così Si è giocato Sciateci un bel like E questa è la prima volta Che ho detto il nostro video Potete considerarvi Da di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao